Ciao a tutti, vediamo le caratteristiche che ogni relazione d'amore dovrebbe avere. Allora, prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Allora, quali sono le caratteristiche che ogni relazione d'amore dovrebbe avere? La prima è quella che ci deve essere un dare e un ricevere in scambio, cioè ci deve essere uno scambio. Non ci deve essere uno che prende. Questo avviene molto spesso in alcune relazioni. Diciamo che quando non c'è questo scambio cosa succede? Di solito quando è la donna a ricevere l'uomo a dare, la donna va alla ricerca di un cavaliere servente che la serva in tutte le situazioni, diciamo, della sua vita. La scarrozza in giro, la porti di qua, la porti di là, insomma. E invece quando succede il contrario, quando l'uomo, diciamo, a ricevere senza dare, diciamo che l'uomo riceve, ad esempio, sessualità e dà solo sessualità e basta, e non dà altro. Mentre la donna dà affettività e tutte, eccetera, eccetera, l'uomo si limita alla sessualità. Di solito funziona in questo modo. Invece una relazione dovrebbe avere uno scambio. Ci deve essere uno scambio equo, uno scambio paritario. Tutte e due devono dare e tutte e due devono prendere. Poi ci deve essere libertà in una relazione. Non ci deve essere dipendenza. Le relazioni dove c'è dipendenza non sono relazioni libere. Non sono relazioni d'amore. Sono relazioni basate sull'attaccamento. Questo è da tenere presente. Questo è un fatto molto importante. L'amore deve unire, da questo punto di vista, ma non creare delle forme di dipendenza. In una relazione ci deve essere ascolto. Spesso le persone fanno finta di ascoltare, ma in realtà non ascoltano assolutamente. Quindi l'ascolto, la discussione civile, diciamo così, deve essere parte integrante di una relazione. Visto che ci saranno i momenti in cui praticamente ci sarà qualche forma di astio, qualche forma di, diciamo, non compatibilità. Quindi è importante che sia una discussione sana, diciamo, tra virgolette. Una discussione dove non ci siano comunque delle controversie di questo genere, insomma. Quindi questo è importante. E poi un'altra cosa che ci deve essere fondamentalmente è l'entusiasmo. L'entusiasmo è in teosiasmos, avere Dio dentro, quindi è l'energia che abbiamo. Se si perde l'entusiasmo, se si perde l'energia, la relazione perde di valore. E poi saper ammettere i propri errori, saper chiedere scusa. Saper chiedere scusa non è un qualcosa di negativo, assolutamente. Come è importante anche saper creare i propri spazi di autonomia. Essere autonomi, autosufficienti è molto importante nell'ambito di una relazione sentimentale-affettiva. Questo ci deve essere. E' un'altra cosa, un altro ingrediente fondamentale, che per amare gli altri è indispensabile, amare se stessi, l'autostima. Avere un'autostima elevata è veramente l'ingrediente base per impostare bene una relazione. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Torramaschi, iscriviti al canale. Iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!